Ciao NoostiV, questa è l'ultima notifica. E' una manciata di secondi, un vetro piccolissimo, ti sei rifugiata, ti nascondi, ma è una profonda respirata, con le mani affaticate, disposti i capelli dalla fronte sudata, per dare un'occhiata all'ultima notifica rimbarta. Spiata è da me che ti penso preziosa, mentre leggi ingannevoli notizie che popolano schermi nelle nostre giornate, indaffarate, sconcentrate, disperse, come te da te, e spesso mal giocate, mal giocate. Gli stabili come me, che ti immagino e mi chiedo in questo dove sei, tu dove sei, nessuno e tutti ti guardano, tu dove sei, fratelli e figli ti aspettano, tu dove sei, ma in cielo droni trasportano reni, oppure sparano in canto droni, trasportano reni, oppure sparano in cielo droni, trasportano reni, oppure sparano. Ed il pensiero razionale sottilmente lentamente se ne va, ed il pensiero spirituale sottilmente se ne va. Hai sviluppato sentimenti incomprensibili per rapporti ipotetici e interpretabili, per una fame indotta di piacere incolmabili e labili. L'amore ti avventa, ma tu non chiudi la porta, dai coraggio a farmi entrare, questo spazio virtuale ti ipnotizza, verrai indebolito, cancellato, troverai una sensazione profonda e lontanissima. Dai fotografici mi tocchi, fatti i tuoi sguardi poco attenti, ora stai come me, come te, nel presente, ecco ora dove sei, ma nella cosmicità, ecco dove sei, ti devo per dispersa, ecco dove. Ma in cielo droni, trasportano reni, oppure sparano in tanto droni, trasportano reni, oppure sparano in tanto droni, trasportano reni, oppure sparano, ed il pensiero razionale sottilmente lentamente se ne va, ed il pensiero spirituale sottilmente se ne va. Se ne va, se ne va. Ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti.